Cerno vi do un aggiornamento perché poco fa il ministro Crosetto ha detto attenzione lì, lo sappiamo, è una zona in cui ci sono i nostri soldati, lo ricordava anche Marolina Satterino, la missione Unifil, i nostri soldati da notizie ufficiali risultano nei bunker. Anche qui ovviamente Dio non voglia che nessuno, in generale che nessuno venga colpito, ma qualora dovesse accadere qualche cosa, eccolo qua questo è il titolo poco fa, Israele dà il via all'operazione di terra in Limano violenti combattimenti al sud e Crosetto, i nostri soldati nei bunker. Come si può evolvere il conflitto? Il tema di questo conflitto è che non è più territoriale come sembra perché ha questa dimensione globale attorno a lui, quindi l'Occidente ha questo imbarazzo, ha per la prima volta di fronte da molti anni una democrazia di cui possiamo discutere la natura del governo di Netanyahu che fa una guerra impropria anziché farla fare agli altri e questo mette in forte imbarazzo l'Europa e gli Stati Uniti. Netanyahu sa che questo passaggio sul Libano è necessario e che più va avanti e più unisce Israele, perché nel 2006 c'era Olmer presidente premier israeliano, non è che c'era Netanyahu, no? Quindi in questo tema territoriale che lui insegue mostra anche l'Unifil, il senso che non ha più. Cioè noi abbiamo fatto nascere quel contingente come forza di interposizione e adesso lo troviamo lì nel bunker perché non ha più natura quella difesa. parteciperemo a una guerra diversa, che è una guerra anche culturale, religiosa, politica, molto più grande. È un po' paradossale, no? Molto più grande del territorio libanese. Noi l'abbiamo messo come tuo sottotitolo. Guarda, ultimo, la Libano, i nostri soldati sono nei bunker che può sembrare un paradosso che il soldato è costretto a... è uno simono, non so come chiamarlo. Perché in questo momento il soldato non potrebbe fare quello per cui è andato lì, cioè mettersi in mezzo, dovrebbe prendere una parte. Se l'Europa prende una parte in questo conflitto non si occupa più di Libano e di Israele, ma si occupa di contrapposizione tra due blocchi culturali in una guerra globale che esiste. Allora, siamo pronti a darvi tutti...